Musica Ma ragazzi è qui e benvenuti nel mio canale Siamo qui nel secondo episodio Random Class Generator Cercare di vincere con classi assurde Siamo nel secondo episodio ragazzi Il primo episodio ha avuto una bellezza di 110.000 visite Con 22.000 like Questo episodio ragazzi deve arrivare assolutamente a 25.000 mi piace Se no io non lo porto più Non è una minaccia però davvero così Perché sono serie che formate da due o tre episodi Sinceramente mi piacerebbe arrivare a un po' più di mi piace Per vedere appunto se vi piace davvero questa serie ragazzi Per mandarla avanti Perché di solito il primo episodio fa tanto Ma il secondo fa meno Quindi avete capito insomma Andiamo subito a far partire ragazzi La registrazione del mio schermo Vedrete il sito Vedrete qua Andiamo subito a generare la nostra classe Io non voglio guardare Non voglio guardare Ah ok l'ha fatta Vabbè Oh Che belle gare VMP signori Andiamo La volta scorsa ne avevo messo Lo specialista Mi dispiace raga che bevegna Davvero scusatemi tantissimo raga Ma non l'avevo visto Ragazzi Qua ci è venuta fuori una grande classe Una grandissima classe E andiamo subito a cercare Tutti contro tutti L'unica cosa che mi dispiace È non avere Il Le cuffie Che vabbè Quelle raga Purtroppo Non è molto Molto difficile trovarle Insomma Però ci è andata molto bene Speriamo che la partita Non sia già iniziata Sennò devo fare un recupero Della madonna La partita non è già iniziata E quindi ragazzi Noi dobbiamo Sfasciare Gli orifizi Enus Allora raga Prima di tutto piazza Una bella mina là Che non l'ho mai usata Oddio raga Best weapon in the world Raga Oltre che trovare armi di merda Comunque Questa Cioè questa Serie qua Fa comunque scoprire Che grandissime armi Cazzo Bastardo di merda Ehi E muori E merdone Sì no 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 Via 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 Ma sono morto già una volta No Allora si fa assolutamente La nuke Eh Vi pare raga Che non chiami la nuke Mai chiamata una Adesso non ci va di qua Ah Ho parlato ovviamente Ah 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 Ovviamente ho parlato Zio porcone Come uno Oh cazzo Quella granata Ha lasciato La merda Si è cagato addosso Quando l'ho ucciso Ha lasciato il pensierino Fast mag Dobbiamo utilizzarle assolutamente Adesso vediamo Quanto dura questa Questo video raga Se dura abbastanza poco Farò anche Tipo Due armi Dove cazzo Madonna santa Perché non l'ho ucciso Qua è già 11 Il tipo Eeeh Ma dove cazzo Mi ha sentito saltare Il merdone Madonna raga Sto Giuseppe qua Quanto cazzo spara Ma come mai raga Non riesco a killarli più Perché non ho le mani Però raga Non ci sono Eccolo Eh raga La scossa elettrica OP Ok Me l'hai sparata Grande Macchina da guerra No da dietro Cazzo lo sapevo Ma sono stupido anche io Però Proprio stupido Hater Sì ciao raga Sapete quando vinco Io qua Domani Che non gioco a COD Ok Siete morti Sto Giuseppe qua Quello che non muore Beh vabbè Oh raga Attenzione C'ho l'HCXD Che non userò proprio mai Adesso io per lusso Starzona Andiamo a stare in sta zona qua raga Stiamo un po' qua Che di solito recupero sempre un bordello Vaffanculo Era mio Schifoso Dai questo in pre-fire Come cazzo Dai raga ce ne avevo due Cristo No Ma dai Giuseppe Hai rotto il cazzo però Una cifra proprio Guardalo Oh Vaffanculo Immortale Zona sei forte Eh la torre da robot lì Dai Dai che vieni fuori Lo so Dai con la corazza Oh Best kill in the war raga Pensavo di non averlo ucciso Oh utilizzarne uno Per nemico bomber No eh Vabbè Va bene Va bene Quello holden lì raga Veramente scomodo Eh raga Porco due Ah niente raga Sta qua è nata di merda Peccato perché avevo trovato una bella classe Però ho trovato della gente scomoda Usare praticamente una mitraglietta Senza Estrazione rapida Raga è veramente Un mezzo suicidio Perché Con la mitraglietta corri sempre Corri 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 E se trovi uno che ce l'ha Insomma Sapete un po' tutti com'è Allee Arriba Arriba Signori andiamo con la seconda classe Geririamo E io non guardo Signori Weevil Andiamo a crearla subito Allora raga È un po' Un po' strana come classe Andiamo a visionarla meglio Allora Weevil Caricatore aumentati L'FMJ E il silenziatore Cosa c'è abbiamo tutto nuovo raga Bello Weevil così Bello bello raga Secondario non ho niente Come specialità 2 C'ho scavenger Sciacallo Poi abbiamo madonna System trophy Cazzo me ne faccio del system trophy E due granate flashbang Ah Devo metterci il bonus delle due Ci siamo Dovrebbe essere tutto Spero di non dimenticarmi nulla Raga Incrociamo le dita Speriamo di fargli il culo Ma è difficilissima con sta classe Combine Tutti contro tutti Quale miglior mappa signori Per vincere Dobbiamo assolutamente vincere raga Figa Abbiamo contro mamma mia Mi dispiace solo per i bonus Perché Servano anche azzo Praticamente System trophy Saluto Mark Grandissimo Mark Mi ha detto Gabbo Ciao Bamber Ok Abbiamo spento Tutto Tutto Tutissimo Dobbiamo assolutamente Far culo a tutti Ma ragazzi Purtroppo non ho Senza le tombe Io veramente mi trovo malissimo Senza Vabbè quello era già ferito Ok Ricarica abbastanza veloce Rapida Questo non è morto Ce l'avevo anche dietro comunque Il bastardone Andiamo andiamo Corri Corri gabbo È inutile ricarica Raga Cazzo Ma perché Perché Cioè Raga ma L'ho sperato 18 colpi Andiamo Corri Corri Run 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 Andiamo dove sono Dove siete Merde Cioè non ne ho visto uno Sono dall'altra parte della mappa Ok Ok Quella là sicuramente Stara bestemmiando Come una bestia Eeeh Che palle Tutti che parlano Sta zitto Madonna ma che cazzo fai Ma quanto cazzo fai Ma avete sentito Mamma mia Vai con l'overdrive giusto In giustezza raga Ok Velocità normale ripristinata E io ovviamente muoio Dove siete Merdoni Guarda te che lavoro Ma perché ricarico 60 colpi Dai ma Fermati un attimo Ecco lo sapevo Lo sapevo Ricorso uno per mezza mappa Poi si gira Ma ammazzo È sempre così Ma incominciamo a bagliare Pure i cani Raga però che palle Sta partita Ma che cazzo Dove cazzo sono tutti Che cazzo Non li trovo Carica Naffanculo Ma porca puttana schifosa Raga ma dove cazzo Vabbè che io sto Ripeto sto usando un'arma Che è particolarmente figa Per il drop che ho fatto Per averla creata Cioè Non è male Per l'amor di dio Mi può capitare di peggio Però raga non muoiono eh Santa madonna Non muoiono Sette obiettivi raga Perché poi lo so Che io sono uno Che si lamenta sempre E voi Appuntamente dire Mamma mia che lagna Gabbo Mamma mia che palle Eh raga Cioè io dico le cose Come stanno Oh madonna mia Che è scaffata Ovviamente Ma stannato Fa parte del gioco Insomma Lamentarsi È su code Che cazzo è Vabbè raga Dai però Cristo Ma che No vabbè Dai Vabbè Vabbè Vaffanculo Te lo science Niente Niente Oh raga C'è Quello lì Che mi Quello lì Con il reaper Con le corna Che spara più forte Di me Guarda te Madonna mia Ecco perché C'è 70 caricatori Questo perché Non è che devi stare lì A sparare 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 Boh Lo metto lì Giusto perché Ce l'ho Voglio utilizzarlo Riperguasto Dov'è che spara Ok Scappa 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 Pensa a te Cristo santo Me fa incazzà Ehi Ehi Calma Calma Adesso arrivo Adesso vi ammazzo Tranquilli E C'è Non lo so perché Ho lanciato la cecchante Raga Non chiedetemelo Per favore C'è Risparmiatemi Vi prego Quello l'avevo sentito Anni luce prima Però non sono riuscito A ucciderlo C'è mi prende per il culo Guarda che lancio la cosa Ma Ok Madonna santa E io Con lo scaf Raga Perdo la mira C'è Devo ancora abituarmi qua C'è Ho perso la mira Palesemente Raga io sento in continuazione Le cose dell'arco Andare Senti Senti In continuazione E' un bug Perché è impossibile Una roba del genere Dai Cazzo Ma muori Adesso spiegatemi Perché ho saltato qua Perché Ormai Ogni volta che vedo Un amico Mi viene da saltare E non è una bella cosa Raga C'è Questa parente la perdo Lo sapete vero Guarda La perdo Sta partita Ne so 28 Dai 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 Gabbo Guarda Cristo Ma ce l'ha con me Il signore Santo E che palle Eeeh Dai Dai Vaffanculo Io ve l'avevo detto Raga che la perdeva Sta partita Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Ancora Ancora le cose Che schizzano Vabbè signori Ancora questa serie Non finisce qua Spero per i like Però fatemi vedere Con un bel commento Un bel supporto Generale signori Se volete un altro video Di questo genere E devo cercare di vincere Speriamo che prima o poi Qualcuno me la mandi buona Io vi saluto Vi ringrazio Qui da Gabbo di Square È tutto Lasciate un mi piace Un commento Bala ragazzi Grazie a tutti